Ritorna Gigetto. La vicenda della partecipazione del professor Sabino Fortunata alle primarie del centro-sinistra di Andria come candidato del Partito Democratico ormai può essere organicamente inserita nel programma del Carnevale andriese. Dopo il bidone della conferenza stampa di sabato, quanti giornalisti hanno trovato la sede del partito sbarrata e nessuna da accogliergli, almeno per dirgli che era annullata. Tutto tace e le voci si rincorrono. Rientrando dal bidone, la nostra troupe aveva incrociato a Piazza Catuma, fortunato mentre si intratteneva come se nulla fosse, con i consiglieri Vita Nostra, Colla Suonno e Marchio Rossi, che aveva appena espletato l'impegno più gravoso della giornata, cioè l'acquisto dei Tenerelli, il che la dice lunga sul rispetto verso di noi. Da allora niente almeno di ufficiale, né le scuse alle testate giornalistiche bidonate, né quattro parole in croce per spiegare la situazione. Nemmeno una nota della segretaria del PD Maria Carbone per far conoscere la sua situazione dopo il post apparso e poi rimosso venerdì sera su Facebook con il quale annunciava le dimissioni. A sei giorni dalle primarie siamo quindi alle barzellette, almeno stando alle ricostruzioni di quanto accaduto nel weekend. Quindi fortunato si era ritirato, non era la prima volta. Sin dal momento in cui il PD lo aveva indicato, è stato candidato a giorni alterni perché in realtà le primarie non le voleva fare. Era convinto, o era stato convinto, che gli altri due candidati, il dottor Mirko Malcangi e l'avvocato Vincenzo Liso, si sarebbero ritirati. Insomma voleva essere portato in processione. Siccome quel posto era però già occupato da San Riccardo, Fortunata ha cominciato a mostrare continui dubbi e perplessità, non perdendo occasione per manifestare la sua volontà di mollare tutto, anche nel giorno in cui il PD aveva riunito il direttivo per ufficializzarlo come unica candidatura del partito. Dopo l'ennesimo ritiro di sabato, ieri nuova puntata, con un pellegrinaggio dello stesso Fortunato insieme ad una delegazione di PD e Progetto Andria da Michele Emiliano, sembra che tal incontro abbia convinto il professore a ripensarci. Presumibilmente Emiliano gli avrà dato garanzie su quello che, parafrasando il patto del Nazareno, abbiamo definito il patto dello Giuda Iscariota. Fortunato alle primarie sarà infatti sostenuto oltre che dal PD da Progetto Andria, che però ha posto come condizione che il Partito Democratico andriese non candidi nessuno al Consiglio regionale in modo da favorire il notaio Sabino Zini, candidato con la lista Emiliano. La cosa è stata incredibilmente messa nero su bianco, in una nota con la quale Progetto Andria auspica addirittura che al Consiglio regionale ci sia una convergenza unitaria su Zini di tutte le forze di centrosinistra. Insomma, l'accordo prevederebbe che i dirigenti del PD votino e facciano votare per la lista Emiliano. Un partito che invita a votare non a primarie ma ad una competizione ufficiale per un altro partito è una cosa che non avevamo sentito mai. Il bello è che la segretaria del PD, Maria Carbone, ha risposto rimettendosi ad Emiliano, ammettendo così implicitamente l'ipotesi che il segretario regionale del PD possa dire va bene votate per un altro partito, anche se con il disinvolto Emiliano in forte conflitto di interessi, essendo candidato alla presidenza della regione, segretario regionale del PD e referente della lista di Zinni, ci si può attendere di tutto. Insomma, se il patto dello Giuda Iscariota è vero, significa che in cambio dell'appoggio affortunato per le regionali si sono venduti il partito. Ci spiace per la Carbone che in questa storia è la principale vittima, avendoci messo la faccia più di chiunque altro. Non ci resta che rimanere in attesa, aspettando l'eventuale conferma ufficiale e le motivazioni del ripensamento di Fortunato, che comunque Vada ha già dimostrato la sua affidabilità, non solo come candidato alle primarie, sempre che sino a domenica non cambi nuovamente idea, ma temiamo anche come sindaco.